Amici del software libero, benvenuti o bentornati in questa 57esima puntata del podcast di Marcos Box. Prima di iniziare questa puntata fatemi spendere due parole per la godevole iniziativa di Riccardo Balombo. Riccardo Balombo ormai lo conoscete tutti, è uno dei più grandi youtuber italiani che si occupa di tecnologia, ma non solo, il suo mordente è praticamente spazio dalla tecnologia, ai libri, all'arte, ai consigli di vita, al running, tutte le passioni che è Riccardo, quindi che riesce a trasmetterci a tutti. Bene, la scorsa settimana Riccardo sul suo canale YouTube ha lanciato un'iniziativa volta a recuperare vecchi computer, vecchi portatili in questa fase, quindi laptop, portatili in uno e quant'altro, che Riccardo provvederà a ottimizzare, ricondizionare e a donare ai vari istituti scolastici che ne saranno richiesta di volta in volta per fornire questi computer poi ai vari alunni per consentire la didattica a distanza. Potete donare sia hardware da sistemare, ma anche effettuare le donazioni economiche tramite il link PayPal che Riccardo ha messo a disposizione. Riccardo provvederà poi personalmente a fare tutta quest'opera di costacernita, diciamo, dei vari computer e ottimizzare appunto e ricondizionare tutto. Installerà Linux sui computer sui quali possibili installare Linux, quali non fosse possibile per esempio per i due in uno, provvederà anche in questo caso ad acquistare le licenze per Windows e a sistemare tutto. Quindi una godevole iniziativa di Riccardo che merita la condivisione. Spero che possa riuscire in questo suo progetto e che possa essere utile a quante più persone possibili. Se avete voi, lettori di Marcosbox, vecchi computer, trovate sul link che vi metto in descrizione di questa puntata tutti i dettagli su come contattare Riccardo e provvedere a partecipare a questa iniziativa. In questi giorni di quarantena forzata, tra una fila e l'altra per andare a fare la spesa, moltissimi utenti si stanno riveggendo ai servizi di streaming video, che siano YouTube, Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus. Bene, tutti questi servizi occupano banda e mettono a difficoltà la rete europea. Per questo motivo la Commissione Europea ha chiesto alle principali piattaforme di streaming di ridurre la qualità dei servizi o di evitare appunto di mandare in tilt la rete europea, compromettendo così le attività fondamentali come quelle connesse al telelavoro, quelle connesse all'accesso ai servizi sanitari, la didattica a distanza e quant'altro. Tutti quanti i big YouTube, Netflix e Amazon Prime Video hanno deciso di aderire a questo appello della Commissione Europea e hanno deciso di ridurre la qualità dei bitrate in maniera variabile. Netflix, ad esempio, ha deciso di ridurre per 30 giorni la qualità del 25%, Google ha deciso di ridurre a 7,20 la qualità di default dei video su YouTube, Amazon Prime Video, anche lì, ha deciso di ridurre il bitrate dello streaming senza specificare quanto. Insomma, tutti quanti si sono attivati e hanno aderito a questo appello dell'Unione Europea. Quindi non è la vostra connessione che in questo momento fa schifo, ma è una volontà precisa che serve per ridurre il traffico di rete. Sempre per via del coronavirus, Mozilla ha deciso di riattivare temporaneamente il supporto Tsl 1.0 e 1.1 su Firefox 74. La decisione è stata presa perché molte persone attualmente sono costrette a lavorare da casa e si affidano a strumenti online per poterlo fare e moltissimi siti governativi critici non supportano ancora il Tsl 1.2. Quindi Mozilla si è trovata costretta a tornare indietro sui propri passi e a riattivare da remoto su Firefox 74, che è l'ultima versione stabile, il supporto a Tsl 1.0 e 1.1. Anche i big del mondo open source hanno deciso di scendere in campo per aiutare a combattere la pandemia da Covid-19. SUS, che è la più grande azienda indipendente ai software open source al mondo, si è impegnata ad aiutare tutte quante quelle organizzazioni che producono dispositivi medici per combattere la pandemia da Covid-19. A tal fine SUS ha deciso di offrire servizi gratuiti come il supporto a manutenzione per questo sistema operativo, ma anche tecnologie container da incorporare ed eseguire sui dispositivi medici, al fine, diciamo così, di velocizzare il time to market dei prodotti di questi dispositivi. Quindi, complimenti a SUS, che fra l'altro già lavora attivamente a vari clienti nel settore farmaceutico e della ricerca di istituti che si stanno occupando in questo momento di trovare soluzioni ai problemi posti dal Covid-19, tra i quali ovviamente, oltre alla premessa, c'è anche una cura. Anche la comunità di Debian ha deciso di fare la propria parte per fronteggiare, grazie agli strumenti informatici, la pandemia dal coronavirus. Sulla main list di Debian è stata infatti pubblicata una chiamata alle armi rivolta a tutta quanta la comunità. Dal 5 al 11 aprile 2020 ci sarà un biohackathon virtuale dedicato al Covid-19. Lo scopo è quello di migliorare il force biomedico e tutti quanti gli strumenti dei libri e che supportano tali progetti. La maggior parte dei compiti non richiede alcuna conoscenza della biologia o dei medici, ma si tratta semplicemente di lavorare sul triage dei bug, effettuare test, sistemare la documentazione, realizzare le traduzioni e quant'altro. Su Marcosbox trovate maggiori informazioni su come aderire. Se siete amanti del retrocomputing non potete lasciarvi scappare Vicventi a Visual History. Per un paio di settimane l'edizione PDF del libro di Giacomo Vernoni sarà gratuita, potete scaricarla liberamente dal sito del suo creatore. Che cos'è questo libro? Racconta la storia del Vicventi, quello che è stato di fatto il primo approccio al personal computer per un'intera generazione di smanettoni. Il libro è fatto molto bene, ci sono un sacco di illustrazioni, aneddoti e quant'altro. Il libro è stato finanziato all'epoca da una campagna su Kickstarter nel 2016 ed è disponibile anche in formato cartaceo. Qualora vogliate potete supportare il creatore comprando l'edizione cartacea, che è davvero molto bella. Andate a vedere, c'è un video che vi fa vedere questo libro. Colgo l'occasione anche per ricordarvi che è sempre sul sito di Giacomo Vernoni e presenta un altro libro chiamato Registratori Commodore, che raccoglie tutti i registratori a cassette utilizzati con il computer Commodore 8-bit. Quindi se siete come me amanti del retrocomputing, non potete lasciarvi scappare questa occasione. Su Marcosbox trovate maggiori dettagli e il link per poterlo scaricare. Passiamo adesso alle notizie inerenti in mondo delle distribuzioni Linux. Il team di Mangiaro ha deciso di rimuovere il repository Mangiaro 32 dalla propria infrastruttura. Questo significa che gli attuali mirror non funzioneranno più ed è quindi tempo per coloro i quali abbiano la necessità di utilizzare una distribuzione a 32-bit di migrare altruole. I team di Mangiaro sta attualmente lavorando per cercare di metter su un'infrastruttura separata con dei mirror a sé, cercando anche un team che possa essere interessato a continuare il lavoro con quel progetto, però ha già fatto sapere che qualora non si arriverà nulla di concreto entro un mese, abbandoneranno quasi sicuramente i repository completamente. Quindi bye bye Mangiaro a 32-bit. Anche il team di Linux Mint si è appresso ad abbandonare il supporto a 32-bit. La notizia è arrivata nel consueto post mensile di Clement Refeb che, come di consuetudine, ogni mese fa un recap sulle novità relative alla distro, sulle donazioni ricevute e sulla direzione futura della distribuzione. È stato annunciato il nome e il codice di Linux Mint 20 che si chiamerà Uriana. Come ben saprete, a partire da qualche reglese a questa parte, Linux Mint segue i rilasci LTSD canonica, quindi Linux Mint 20 sarà basato su Ubuntu 20.04, che è la prima versione di Ubuntu a essere rilasciata soltanto nell'edizione a 64-bit e di conseguenza non può far altro che adeguarsi al nuovo corso di Ubuntu e rilascerà anche soltanto un'edizione a 64-bit, perché non avendo basi, non avendo repository, perché pesca direttamente i repository di Ubuntu, quindi per forza di cose dovrà adeguarsi e fornire soltanto l'edizione a 64-bit. Ovviamente verrà rilasciato di consueto nelle tradizioni principali con Cinnamon, Mate e XFSA. All'interno del post, ma insieme di Clement, poi ci sono alcune informazioni che riguardano gli indicatori, miglioramenti delle performance di Nemo, miglioramenti di Warpinator, il nuovo tool che serve per inviare file attraverso la rete locale, che ormai è quasi pronto, e miglioramenti nei temi che vi avevo accennato la scorsa volta, con le nuove varianti di temi, la variante rosa e la variante acqua del tema Mint Y, andatevi a vedere su Marcosbox per maggiori informazioni. Buone nuove per tutti quanti gli utenti di Xubuntu. Giusto in tempo per il rilascio della beta di Xubuntu 20.04 è arrivata la nuova versione del plugin XFSA Plus Audio, che finalmente offre l'integrazione e il supporto all'estensione Plasma Integration. Se siete utenti di KDE Plasma, di sicuro conoscerete questa estensione, un'estensione che vi consente di poter avere all'interno del plugin che si occupa della gestione sonora informazioni inerenti alla traccia che state riproducendo, la traccia video-audio che state riproducendo tramite il browser web, che sia Firefox o un qualsiasi browser basato su Chromium. Oltre ad avere informazioni sulla traccia, è possibile anche interagire mettendo in pausa, schippando, riproducendo e quant'altro. Bene, l'integrazione sarà disponibile anche su Xubuntu. Su Marcosbox trovate maggiori informazioni su come è possibile attivare questa funzionalità su Xubuntu 20.04. Dopo una lunga pausa, Rodrigo torna a scrivere su Marcosbox e lo fa con un nuovo editoriale dal titolo, Quando l'antivirus non fa l'antivirus, che serve a rispondere alla nostra domanda. Si può usare Windows senza correre troppi rischi, evitando di installare antivirus in diverse parti? La risposta è sì, scoprite come, leggendo l'articolo di Rodrigo. Beh, con questa ultima notizia ho concluso. Lunga vita e prosperità a tutti quanti. Ci riascoltiamo nella prossima puntata del podcast di Marcosbox. Mi raccomando, leggete e condividete il blog, condividete le notizie, iscrivetevi al podcast, attivate la skill per Alexa e, insomma, diffondete la voce del software libro, diffondete la voce di Marcosbox. Ciao ciao!